Questa volta mi sono regata in Kenya e in Tanzania. Qui l'associazione sta gestendo una serie di progetti in diversi settori. Alimentazione, istruzione e salute. Per me non era la prima volta ovviamente, ma è stato emozionante come se fosse la prima volta. Ho potuto rivedere tante persone, i beneficiari e vedere per esempio i ragazzi cresciuti, ora sono adolescenti, ex ragazzi di strada che ora vanno a scuola e stanno avendo anche dei risultati ottimi. Per noi è una fonte di gioia e di soddisfazione grandissima. Tanto lavoro per noi in Italia, ma anche per i ragazzi che sono lì, perché abbiamo degli espatriati cooperanti italiani che hanno il compito di cooperare e coordinare, perché tutto lo staff è interamente locale. Dai fisioterapisti, ai cuochi, agli insegnanti, medici, sono tutti operatori locali che noi formiamo e loro a loro volta formano la comunità e altri operatori. Il progetto che si chiama Oltre le barriere è un progetto iniziato da qualche mese e ha consentito l'abbattimento delle barriere architettoniche in sei scuole nella provincia di Ringa in Tanzania. Mi piace appunto nominare questo progetto perché ho potuto vedere, osservare ed è stato realizzato anche grazie alla generosità dei nostri cittadini fanesi che hanno partecipato alla Lotteria Solidale. Quindi con un piccolo contributo abbiamo realizzato un progetto importantissimo che consente ai bambini disabili di andare a scuola insieme agli altri. L'Africa Chiama dà la possibilità quest'anno a dieci ragazzi di svolgere un periodo di servizio civile. Quattro persone destinate al nostro ufficio di Fano e sei persone all'estero, due per ogni paese in cui operiamo. Ed è sicuramente un'opportunità grandissima di crescita umana, di crescita professionale. I ragazzi che lo fanno sia in Italia che in Africa tornano sempre molto arricchiti, cresciuti e maturati, quindi è un'esperienza che noi consigliamo a tutti. Il prossimo bando scade a breve, il 28 settembre, quindi non c'è moltissimo tempo per candidarsi. Tutte le informazioni possono trovarsi sul nostro sito www.lafricachiama.org oppure chi è interessato può passare in sede a trovarci e avere tutte le informazioni. La nostra sede è in via Giustizia 6-D a Fano ed è aperta da lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. Quindi tutti gli interessati possono passare in questi orari a trovarci.